Via Partenope si prepara a un autunno di cantieri. I lavori di riqualificazione in porto 13,4 milioni, durata prevista 14 mesi, inizieranno per la maggior parte a settembre, partiranno da via Nazario Sauro e si sposteranno nella zona di ristoranti e alberghi tra novembre 2023 e marzo 2024. Sono tanti nodi affrontati dagli esperti del settore, dalla viabilità alla durata degli scavi al possibile rinforzo dei baffi della scogliera. E poi la questione dei ors. Ok per i basoli. Andranno poi rinforzati i baffi della scogliera? Via Partenope negli anni scorsi fu devastata da tremende mareggiate che distrussero la carreggiata. E non solo, il mare arrivò fin dentro alle cucine dei ristoranti. Eventuali nuove bufere potrebbero danneggiare il restyling oppure ostacolarlo. I lavori in ogni caso saranno in pieno svolgimento proprio durante l'inverno.